Ciao a tutti, spero di rubarvi solo due minuti. Allora, siamo qui per cosa? Per capire come si calcola il condensatore. Se io ho un motore trifase e lo devo alimentare monofase, ho bisogno di un condensatore per sopperire la mancanza della terza fase. Quindi, veniamo a noi. C'è un calcolo, ve lo dico dopo, il più semplice di tutto che ci impiegate veramente 10 secondi. Questa sarebbe la formula. Il condensatore è uguale a cosa? 50, che è un valore fisso tipo pi greco, fantastico, per la potenza del motore espressa in cavalli. Ok, poi viene moltiplicato per 220 diviso la tensione di rete. Ok, supponiamo che sia 220 anche. Lo so benissimo che in tante abitazioni c'è anche la 230. Questa mattina da mio fratello, che aveva la stufa sotto l'UPS, la stufa pellet, gli segnava 235. Quindi, ma andiamo per comodità. Poi viene moltiplicato per 50 diviso la frequenza in NERZ, che solitamente è 50. Ok, poi il risultato è in micro farad. Ok, semplificando tutta questa formula, ok, che non serve a niente. Questa è la più semplice. C uguale 50 per, ok, i cavalli. metto una parentesi, cavalli. Va bene? Molto semplice. Se fosse un cavallo, sarebbe 50 micro farad il risultato. Se noi abbiamo due cavalli, quindi 50 per 2 è 100 micro farad. Ecco, posso darvi un'altra nozione molto semplice. Il cavallo vapore equivale, quindi un cavallo, equivale a 750 watt. Ok, quindi se avete nel motore, supponiamo che sia 1,5 kilowatt. Ok, questo qui, ci spostiamo di qua, equivale a 2 cavalli. Quindi andrà applicato un condensatore da 100 micro farad. Cosa dite? Sono stato abbastanza veloce? Un grazie di cuore e tante tante care cose. Ciao a tutti!